Bene, finalmente siamo arrivati a Mede in Campania, il vincitore, questo corto fantastico, il mare che muove le cose. Abbiamo la produzione di Luca Zinconi, intanto sei contento? Sono contentissimo e ringrazio l'organizzazione, la giuria popolare, la giuria tecnica. Allora, ritiro questo premio come produzione Open Mind di Napoli, ma in realtà il corto è stato prodotto anche da due società pugliesi, è importante dirlo, che sono Assedio Film e Beagle Media. Naturalmente ritiro questo premio a nome anche del regista Lorenzo Marinelli e di tutta la crew. Ricordiamo che il cortometraggio è un'opera collettiva come tutti gli altri film, quindi è importante ringraziare tutti. Grazie mille all'Ariano International Film Festival, ciao a tutti, bellissima organizzazione, bellissimo premio, grazie, grazie, grazie.